Brooklyn Decker è una modella e attrice statunitense.Nel 2010 è stata in copertina nell'edizione speciale annuale Sports Illustrated Swim su Tissue Dopo diverse apparizioni come guest star in alcune serie televisive americane, nel 2010 ha fatto il suo debutto anche nel mondo del cinema, recitando come co-protagonista nel film Mia moglie per finta accanto ad Adam Sandler e Jennifer Aniston Brooklyn Decker è nata a Kettering, città della contea di Montgomery, nello stato statunitense dell'Ohio, da genitori entrambi medici Da bambina si è trasferita con la famiglia prima a Middletown, sempre in Ohio, e poi a Charlotte, nella Carolina del Nord, dove è stata scoperta in un centro commerciale da un'agenzia di moda Li ha iniziato quindi la sua carriera da modella, ottenendo presto i primi importanti riconoscimenti, tra cui il titolo di modella dell'anno dalla Connections Model & Talent Convention nel 2003 Dal 2005 vive a New York Il 17 aprile 2009 si è sposata con l'ex tennista Andy Radic, che l'aveva notata nel 2007 in un servizio fotografico per Sports Illustrated, dopo aver annunciato ufficialmente il suo fidanzamento nel marzo del 2008 La coppia ha due figli, Hank, nato il 14 ottobre 2015 ad Austin in Texas estivi nel dicembre 2017 Brooklyn Decker ha iniziato la sua carriera da modella come testimonial della casa di moda Maury Simone Tra le prime riviste per cui ha posato vi sono Teen Voig, Seventeen, Hell Girl, Voig, FHM, Glamour, Cosmopolitan e Spin Nel 2005, dopo due mesi dal suo trasferimento a New York, ha compiuto un'audizione per la rivista sportiva Sports Illustrated, ottenendo di posare per il numero annunale di Sports Illustrated Swim su T-Show a partire dall'edizione del 2006, magazine in cui è stata in copertina nell'edizione del 2010 Tra i marchi d'abbigliamento per i quali ha sfilato sono compresi Gap, Alistair, Intimissimi e Victoria's Secret È apparsa in un video musicale della band Tredors Down e in diversi programmi televisivi Nel 2010 è stata anche ospite al David Letterman Show Nel 2007 è stata coprotagonista con Leslie Nielsen in quello che doveva essere l'episodio pilota di una nuova serie della NBC, Lipshit Saves the World, la cui produzione non è poi stata approvata In seguito è stata guest star in alcune serie televisive, tra cui Ugly Betty, Chuck, Grace and Frankie e Royal Pains Ha debuttato nel mondo del cinema recitando nel film del 2011 Mia moglie per finta accanto ad Adam Sandler e Jennifer Aniston Nel 2012 è stata coprotagonista nei film Battleship e Che cosa aspettarsi quando si aspetta Nel 2010 la rivista Esquire l'ha nominata la donna più sexy vivente Grazie per l'attenzione. Iscriviti al Calane